ragazzi eccoci qua siamo con luca l'ho preso al volo quindi luca hai vinto questa partita che peraltro era importante primo contro secondo ai fini della classifica ma soprattutto a un certo punto vantaggio netto di sabino poi sbagliato poi vantaggio netto tuo poi pari e poi alla fine adesso vedremo un pochettino quello che è successo c'era il mio tavolo con la mia parte di tavolo con coca cola caffè avevo di tutto dal mio lato del tavolo ormai ho fatto amicizia con la barista perché ero talmente stressante la partita mi servivano talmente tanti caffè ormai questa cosa la dici perché la tua ragazza non capisce l'italiano quindi sai che lo puoi dire con una ragazza italiana che ti ascolta in live forse fa parte di quelle cose da non dire bravo allora dai ragazzi vediamo vediamo la partita anche perché poi ci sono gli altri due finali che sembrano due patte ma stanno pensando non è neanche mosso e ovviamente noi stiamo sperando di poter andare a cena presto allora 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 quindi abbiamo questa siciliana passo il mouse tanto wireless no 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 sono innegato faccio io vabbè ok ci penso io fai niente dalla mattina della sera muovi il mouse infatti c'è no sto scherzando ma sai che oggi c'è stato un c'è stato praticamente siamo stati in quattro perché abbiamo messo bett orfini e poi a un certo punto sono avuti dodo lorenzo che abbiamo ammirato tantissimo perché ha perso con matto in una è venuto a commentare tranquillo non è venuto pierre è venuto lorenzo a commentare la partita tranquillo sì sì tranquillissimo dopo li faccio ma no dai c'è ragazzi c'è penso che sei riuscire a digerire anche perché il torno è lungo quindi non devi perdere la calma cioè riuscire a digerire le sconfitte in maniera tranquilla secondo me se ci sta guardando dopo li faccio perché non si dovrebbe essere imbestialito no era pari era pari ho preso matto in una posizione pari e va la difesa pure mi sei arrabbiato tantissimo però riconosco che è un mio limite no se si riuscire a reagire come fa lorenzo secondo me è next level perché comunque è una partita può capitare se ti arrabbi cosa tieni niente quindi tanto vale riuscire a se riesci a prenderla bene hai vinto tutto arrabbiarsi non ti fa giocare meglio le prossime partite non ti ridà il punto indietro quello è vero ci sta ci sta imparare imparare tutti da imparare in paio d'ore riempici la scacchiera di frecce qua dicono nei commenti vabbè siciliana moro sicilianista due su due due siciliane su due aspetta che ti è rimasto ti è rimasta l'etichetta fm bettalli è per favore almeno metto gm bettalli aspetta mi serve il cappellino giallo però se mi presta il cappellino giallo allora posso rimanere fm bettalli aspetta gm moro così per il content per il content ma neanche mia madre sa come mi chiamo sono il moro per lei però oggi era moro contro bruno ok abbiamo questa questa siciliana è la flippi che almeno me la giri la scacchiera almeno mi ricordo quello che ho pensato ragazzi è la prima volta che mi viene fatta questa domanda in questo torneo sto invecchiando sai che non so come girarla ma sarà tasto destro sulla scacchiera ruota la scacchiera ok è la prima volta che giriamo ti giuro la prima volta che giriamo la scacchiera eh ma perché se la guardo da bianco poi non mi ricordo cosa ho pensato no no hai ragione io pure la girerei però magari gli altri non si vergognano a dire girami la scacchiera io la dignità l'ho perso quando ho iniziato a fare 1 g6 ok abbiamo questa siciliana che teoricamente sembra una siciliana can ok con a6 quindi immagino che sul cavallo c3 tu avresti provato una normale siciliana can o una colpo di h5 non si sa buona eh sì sì tutti i fan aspettano il videocorso e qua ok alfiere d3 e tu hai fatto questa linea con alfiere c5 che è più rara però è diciamo fattibile contro il fiere d3 meno contro il cavallo c3 sì cavallo b3 alfiere a7 ecco il cavallo eh dopo il fiere eh u fiere a7 che vabbè la principale dovrebbe essere alfiere e7 però alfiere a7 ok sono più o meno equivalenti donna e2 callo c6 il fiere e3 d6 ok qui il bianco ha due modi di giocare c4 callo c3 ha scelto quello col callo in c3 ovviamente ricordavo meno di di zero però hai mezz'ora in più già in questo momento ah sì ho mai giocato sta roba quindi sabino è uno che pensa un sacco quindi vabbè alfiere per a7 torre per a7 donna e3 rocco rocco lungo sembra buona per il bianco niente di che ovviamente no sì però ho cambiato gli alfiere in campo scuro posso giocare e5 alla fine sembra una neidorf dove è vero che ho sto torre in a7 però comunque non ho giocato non ho perso troppi tempi per cambiare gli alfiere in campo scuro con alfiere e7 alfiere d8 alfiere b6 ok ho perso dei tempi ma qui è molto concreta in realtà la posizione dopo e5 cavallo d5 perché ho tante mossa a disposizione all'inizio pensavo di essere stato furbo dopo cavallo d5 lo farà alfiere e6 ti becchi cavallo b4 immagino no? non l'ho vista non so se è grave però no non pensavo cavallo b4 pensavo pensavo qui ok il bianco può mantenere la tensione con alfiere c4 sembra molto allettante però dopo alfiere c4 una mossa molto furba cavallo g4 evito il cambio di cavalli attaccando la donna e quando mi gioca donna g3 poi posso giocare b5 ok chiaro e poi tornare in f6 col cavallo sì 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 tipo alfiere e2 sì anche a parte sì fiere e2 cavallo f6 cavallo per donna per torre per d6 cavallo b4 qua è pericolosissima per il bianco perché minaccio sì no arrivi molto rapidamente sì chiaro vabbè comunque su mosse tipo a3 posso giocare non mi ricordo cosa però ho un sacco di attività non sono sicuro ok a3 ah c'è la donna che difende il cavallo pensavo pensavo di mangiare no no calo per c2 la posso fare perché su re per c2 alfiere eb3 c'è la torre impresa al di là del cavallo sì pensavo prima scacco no scacco ma verrà fiere eb3 scacco mangio la torre però poi tutto sospeso però sì effettivamente mangio più sì no questo è un po' di tempi vabbè può fare calo per c2 torre per e6 comunque la posizione è molto complessa c'è da calcolare un sacco perché qui posso mangiare anche di f volendo per mangiare f2 re per c2 donna per f2 comunque è molto complicato analizzare questa posizione non sembra male che poi prendi anche g2 penso no tanti pedoni comunque non c'è nessuno passato quindi questo è un po' un problema però sì è una possibilità sì 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 quindi comunque doveva stare attento ha fatto però dopo il fiere e6 quello che non ho visto sono accorto in tempo che posso giocare al fiere c4 per mantenere la tensione comunque al fiere e6 ok forse adesso posso mangiare in d5 ma può giocare al fiere e2 togliendomi calo g4 questa è fastidiosissima perché adesso mi nasce davvero il pedone e in più se gioca una mossa come torre a8 al di là del pedone che mi può mangiare ogni tanto posso mangiare dg dopo cavallo b6 non ho più cavallo g4 come tema chiaro se devo far questa e poi mi rimette un pezzo in c4 vabbè non è un gran che sì sì d'accordo quindi quindi ho fatto torre a8 cavallo per f6 donna per f6 qui per niente in live bet diceva perché non b5 ma b5 perde che succede? non so la casa in non può fare tipo potete farne mille tra cui cavallo per f6 donna per f6 e boh non mi ricordo l'idea è fare torre c7 no? ah sì era orribile cavallo a5 a5 si è torre c7 donna b6 ho perso posto no ok è un po' troppo cioè è vero che posso è vero che voglio giocare b5 ha ragione sul fatto di di si sentiva che c'era qualche pacotato io in realtà vabbè che sto calquando come un baobabubriaco ovviamente figurati in questi giorni ho detto ci sarà qualcosa di tattico però effettivamente non ho visto in me niente cosa però sì ok sono troppo sospesi i pezzi torre 8 deve andare bene cavallo per f6 donna per f6 il fiere c4 eh qui sono stato troppo lento avrei dovuto subito giocare a5 mi sembrava donna e7 strana mi sembrava che la donna in c7 stesse meglio però comunque la donna in f6 tiene qualche donna g5 scacco intanto se la donna si muove da lì non gli do due tempi che è la cosa più importante forse sì perché come ho giocato in partita io pensavo per fare alfiere 6 però no no volevo portare la donna in c7 per avere qualche cavallo b4 me ne sono reso conto dopo perché non avevo visto a5 come candidata subito ah ok è stata dopo come candidata donna c7 re b1 e a5 e qui ok deve a5 secondo me è molto interessante perché deve prendere una decisione importante a 12 minuti fa a4 o non fa a4 comunque a4 è una mossa impegnativa da giocare molto perché ti ha casa b4 comunque rischi di aprire facilmente il gioco ma posso giocare anche semplice con alfiere d7 molte volte quindi mi sto un po' attento con il bianco questa casa in b4 avevo fatto torre d1 ok il motore è chiaro il motore ti fa a4 e ti dice tanto non mi fai niente però ok a livello pratico sì no impegnativo posso fare a4 calo b4 non lo so è difficilissima secondo me come mossa sì 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 ma ci sta torre d1 torre d1 a4 calo c1 e qui forse un po' troppo frettoloso far calo d4 però ok ci può stare calo d4 vero cosa? il motore sono da qualche parte e Edoardo si era affezionato oggi sta tutto il tempo qui praticamente quindi ogni tanto lo ritroviamo ok se non cavallo d4 quali sono le alternative? torre b8 torre d8 una mossa ah scusa cioè sei impressa scusa ok cioè li sei impressa sì quello che non mi piaceva di questa posizione l'ho capito forse dopo è che può giocarmi donna a3 che è fastidiosissima come mossa donna a3 donna a3 è un concetto molto fastidioso probabilmente d6 lo devo lasciare fare una mossa attiva non so torre b8 b5 forse devo giocare così però qua dicono giocare pazzo con b5 eh anche anche b5 sembra molto pazzo però eh sì perché più che altro cavallo ha la casa d3 quindi forse non no più che altro b5 forse mi fa il fiere d5 posizione ah senza mangiarsi sì non sono sicuro vabbè comunque la partita dopo è il circo cavallo di qua poi non si è capito più niente pochissimo tempo al fiere f1 ho dovuto fare a3 se non mi arriva donna a3 non ero contento che concettualmente voglio ottenere a4 b2 no perché così a3 la posso fare quando voglio però mi arriva no qua donna a3 perché poi non la togli più non hai cavallo b5 quindi donna a3 arriva poi faccio c3 penso e sì no perdi sì sì devi fare a3 a3 b3 torre d8 qui fortunatamente non ha fatto cavallo e2 ha fatto c3 cavallo e2 sì hai qualche problema ah cavallo e2 avrei mangiato sì devi mangiare in e2 avrei fatto alfiere e6 questa posizione qua comunque vabbè a livello pratico ancora non è facile per il bianco però dopo che non hai più il cavallo probabilmente finisce il tuo attacco sì però comunque alfiere campo chiaro nel bianco nel massimo posso ho l'alfiere in e6 l'alfiere in d5 sarei morto l'alfiere in c4 non arriva quindi no comunque a livello pratico lui a 5 minuti deve fare ancora 18 mosse questo pedone in a3 comunque mi garantisce un sacco di gioco infatti ha giocato c3 cavallo e6 g3 qua secondo me è stranissimo capire che cavallo c6 è superiore non si riesce a capire anche perché cioè e6 sembra la casa di questo cavallo dopo che lo metto in c6 che faccio? non so perché il motore no volo andare in c5 sì sì non chiaro cavallo c6 a quanto pareva meglio ma solite robe da motore cavallo e6 beat g3 ovviamente no? vuole giocare anche lui sul lato di re quello qua fa f4 che probabilmente non è buona però ok a livello pratico insomma se non fa questa qual è il piano suo? non è chiaro sì non ci sta ok fiere g4 il fiere e2 preso ho sbagliato ho sbagliato qualcosa f5 l'ho dovuto fare fiere per e2 callo per e2 torre 8 callo g3 ma è difficilissima questa posizione però sì qua forse mi piace un po' di più il bianco anche se il motore piace il nero f5 è mossa difficilissima da giocare eh sì f5 eh adesso non sembra così difficile dopo no f5 è mossa un po' folle onestamente no però è la mossa da giocare perché ha un minuto sull'orologio lui quindi può crollare subito ah dici proprio in virtù del del ah comunque 15 minuti qua non è sono pochissimi sì però pensavo di giocare torre ad 8 non ho capito che in realtà se si potesse stabilizzare lui perché dopo si è stabilizzato mi ha messo questa torre d5 ho dovuto fare b6 per difendere il cavallo re c2 eh qui è brutta brutta g6 f5 ha giocato molto bene qui con un minuto vabbè sabino è questo tipo di giocatore ha giocato forse mossa è migliori con un minuto che con un'ora e mezza incredibile sì quando inizia a prendere dinamica quando a lui l'iniziativa è tosta giocare torre 1 d4 vabbè molto logica ma un h6 è difficilissima un minuto un h6 sua ah tu hai d4 ok ci sta difendo poi si vede no donna h4 è una mossa da Zeitung perché può farmi e5 qua e5 donna per h2 torre d2 donna h3 e vabbè può essere persa non lo so però però è la tipica mossa da Zeitung perché adesso comunque anche i suoi pedoni sono tutti in presa no sì e non è chiara la posizione ma mi ha messo sta b4 molto forte ovviamente devo giocare cavallo a4 anche se è sbagliata no non sono fregato chiaro re b3 torre a8 e qui e5 si vince torre per d6 non l'ho capita perché mi permette di giocare b5 qual è l'idea del bianco qua dopo i5 perché torre per d6 no e 5 si perché perché dopo donna per h2 torre d2 donna h3 lo so concettualmente mi manca b5 una mossa e ho il cavallo completamente fuori gioco la torre na8 non so se posso giocare roba tipo donna g1 torre a2 non lo so sono molto lento qua con il nero ma può farmi forse qui può farmi no e6 no vabbè sembra comunque con un minuto è molto complesso quindi questo è però è un minuto di sabino quindi il rischio vabbè questa comunque vabbè è fattibile non è qui la dopo b5 è sbagliato f per g6 f per g6 è una mossa molto strana l'ha fatta subito per guadagnare 30 secondi però oggettivamente ci sono molte idee con f6 non tanto per il matto in h6 perché comunque la mia donna sta in h4 ma più per giocare con donna di 2 torre d8 molte volte quindi sì perché comunque se cambio i pezzi tu questo finale ovviamente lo perdi perché mangio a3 b5 cadrà quando voglio sì dipende che versione è il finale chiaramente ok con questa struttura togli tutti i pezzi faccio c4 mangio b5 mangio a3 hai 2 vedoni in meno quindi c'è anche un problema di materiale a questo punto ok questa è strana però comunque apre il gioco cioè non è che si boh la può far sempre quindi tanto su f3 g6 devo rimangiare si dici se la faccio la faccio quando vedo qualcosa di concreto non in questo momento f per g h per g e5 andato diretto donna per h2 torre d2 qui dovevo scegliere se donna h3 o donna h4 ovviamente su donna h4 mi torna in d4 ma ma qui in realtà stavo già giocando per vincere perché non mi sembrava più chiara ma soprattutto donna h3 è molto spontanea perché difendo e6 non può farmi e6 ok l'idea di donna h4 è che realisticamente giochi ti deve dare ripetizione se non arriva donna c4 sì tutto questo in realtà e6 era molto interessante il finale appunto e6 torre per e6 qui lo stesso e6 sì torre per e6 al di là che non ero sicuro di torre d8 ho preso un colpo quando l'ho visto torre per torre per dove vado con il re mi era chiara sta posizione eh l'ho forse perso aspetta vado qui donna d4 ecco allo e4 non posso dare materiale indietro no è chiaro siamo pari di materiale non ti ho sacrificato nulla eh cavolo allora forse e6 era h7 donna d4 lo stesso donna d4 uff ma forse perdevo devo fare forse f6 su donna d4 così ah donna d7 donna d7 ah forse vinceva sì vabbè sono stato molto fortunato dopo vediamo che dice l'amico fritz qua ma qui è persa su e6 cosa devo fare torre per e6 ah ma è proprio buono ah devo muovere il re sì posso muovere il re ok questo l'avrei trovato sì re h7 ok però è comunque sì è comunque buono bianco certo sì però re h7 donna f2 e su torre per d8 non devi mangiare in f7 devi far torre per d8 che mossa chi è che non mangia f7 con scacco qui e se succede ah però è che mangio minaccio matto poi mangiando il cavallo vabbè è molto complesso giocare sono 30 secondi a testa se ti do ripetizione è un po' è chiaro è successo di tutto però comunque il bianco ha perso il controllo qua no sembra sì sì no da un pezzo sì sì assolutamente e dopo donna h3 donna g5 torre a c8 no qui può fare sì ma qua è incomprensibile no in realtà ha senso perché lui stava giocando per vincere qua perché non ha visto re h7 ok quindi l'idea è che al posto di c4 l'idea è che ti do io una torre dall'ottava e cerchi di darti matto ok se al posto di c4 mi gioca subito torre per g6 a parte che ho re h7 non è chiara ma non l'ha vista prima quindi dopo f per g6 donna per g6 re h8 avendo la torre in c8 mi può solo dar perpetuo mentre dopo c4 come ha fatto c4 torre per c4 dopo torre per g6 se mangio in g6 ho perso perché dopo donna per g6 matto per f8 torre f2 re h7 donna d6 matto chiaro dopo c4 torre per c4 che mi ha anche guardato male ovviamente perché io ho permesso torre per g6 e dopo dopo 15 minuti l'ha vista re h7 ha iniziato a scuotere la testa ah perché aspetta qua torre per c4 ma qua avete già 50 minuti eh sì questi sono i 50 minuti adesso li ha presi in 4 e quarantesima sì sì sono stato anche molto fortunato ma certo quindi qua un minuto e fa c4 con un minuto sì qua dopo torre per a 50 minuti si rende conto che non funziona wow eh non funziona però se mi gioca è troppo tardi ormai se mi gioca torre torre d3 che era l'alternativa senza c4 no? no 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 dopo c4 qui vabbè ha pensato un sacco torre d3 deve giocare torre g4 pensavo pensavo donna d3 e qui oh sì donna h2 perché su cavallo e2 mangio mangio torre per e5 cavallo e2 unica torre per e5 torre per e5 su torre d8 scacco vado vado su e basta re g7 non ha finito gli scacchi quindi ma in realtà sono stato anche molto fortunato perché quando ho iniziato a calcolare vabbè dopo torre per g6 re h7 dovevo farla l'ho fatta subito se no prendo matto c4 presa torre per g6 però qua adesso avete di uno 50 minuti quindi puoi calcolarla ma in realtà no se non faccio re h7 prendo matto in 3 quindi l'ho fatta subito non posso mangiare non posso fare né re f8 di mattinuna né re h8 quindi l'ho fatta torre g7 re h8 ovviamente torre d3 quindi mi sono messo a calcolare e all'inizio ero in tilt perché dopo torre c8 quello che ho mancato è che può darmi scacco in d8 torre per d8 lui è abbandonato subito dopo torre c8 donna per d8 re per g7 qui su donna g5 scacco re h7 non ha più scacchi e m8 in c3 alla prossima chiaro poi con il pedone non ha nemmeno non avesse il pedone in e5 se donna e5 appare il matto però dopo donna g5 è pazzesco immaginiamo donna g5 scacco corre qua ah no con re g7 ok donna g5 re h7 se non ci fosse il pedone in e5 il bianco potrebbe giocare donna g7 scacco stallo ah no c'è il pedone in a3 cosa sto dicendo vabbè c'è il cavallo anche è il cavallo inchiodato ah inchiodato però il pedone in a3 lo può ancora mangiare lo non è stallo no ok però è un clamoroso questo vabbè ma la fortuna in realtà che all'inizio non avevo visto è che vabbè donna g5 perde ma può dar scacco in f6 perché su re h7 donna per f7 scacco a ripetizione esatto no devo tornare in g8 prima il re era in f8 ok donna d8 re h7 e qui ha donna d3 scacco e quindi ho detto porca caca su re h8 se vado in ottava mi torno in d8 e su re g7 donna f6 ripetiamo no se vado su c'è cavallo f5 se me lo vorrei o in g7 o in h6 c'è cavallo f5 e poi mi sono accorto che posso mangiarlo il cavallo perché è matto in c3 donna per f5 torre c3 è matto è configurazione da da studio si da no no poi sai fortuna relativa perché comunque se l'avversario l'hai ridotto in zeitnot è merito no della partita che hai fatto quindi sicuramente il fatto che qui sia la 39 c'è un pizzico di fortuna però comunque ce l'hai portato tu in zeitnot non è che ti regala niente nessuno che dice ah sono stato fortunato quando tu pensi pensi tanto perché il tuo avversario ti fa pensare tanto magari arrivi in una posizione critica che è un minuto e succede questo che magari non vedi non vedi una una risposta critica quindi fortuna nei scacchi diciamo che esiste esiste poco quindi è stata una bella partita a un certo punto non si è capito niente no niente no sono contento perché comunque al di là del fatto che dopo c4 io debba mangiare in c4 di torre sono contento perché comunque anche prima di avere i 50 minuti avevo visto che su torre per g6 c'era reak7 infatti ero mezzo in tilt alla quarantesima perché ho detto dopo c4 torre per c4 ho visto che può giocare torre 2 d3 non ero sicurissimo perché all'inizio non ho visto torre g4 quindi ho detto immagina che torre 2 d3 faccia patta tilt totale perché se fosse stata la quarantesima dopo torre per c4 avrebbe subito mangiato in g6 si sarebbe preso il pacco con reak7 e invece e c'è anche torre d3 perdeva quindi ma buona prima è il giorno di riposo che adesso ci vuole dopo sto circo sì peraltro diciamo sei questo è lo scontro diretto quindi adesso un punto e mezzo del secondo no uno Davida vinto quindi Davida più 2 io più 4 vabbè ok il giorno di riposo domani piero dopo domani un più uno solido non male qua già si ci chiedevano quanto stai adesso hai un punto in più sul secondo immagina che non ci fosse il pedoni e5 dopo donna g7 ti dà la mano e tu ti dà la mano perché pensi che è stallo no sì lì lancio tutto cambio professione vabbè partita partita da blitz del title tuesday contro contro il velezuelano maestro fide classica classica è un casino allucinante ah beh ma è una partita che si può vincere si può perdere può finire in qualsiasi modo comunque a un minuto a 5 fortuna non esiste poi se vinci questa partita vuol dire che in questa partita hai un calcolo migliore del suo e gliela metti in calcolo quindi sai no si tratta solo del trucco cioè chi tira il trucco qui vince al di là che sia più 2 c'è uno che lo tira e l'altro che lo prende merito per chi lo tira l'ho detta malissimo mi sto impelagando però ok avete capito io penso la fortuna in alcuni casi sai secondo me gli unici casi in cui esiste la fortuna sono quelle posizioni dove il tuo avversario sta giocando proprio di merda tu hai stravinto e a un certo punto magari fai una mossa così tanto stupida che il tuo avversario magari è uno scacco e deve mangiare e allora magari riesce a rubarti la partita però lì hai fatto tutto tu allora gli dici vabbè ok non te la sei meritata diciamo perché ho fatto tutto io qui diciamo c'è molto merito perché comunque posizione super sbilanciata dove rischia di darti matto lui rischia di dargli matto tu hai preso delle scelte che sai che erano un po' azzardate come Cavalla 4 ma perché sai che devi fare quel tipo di cose magari un altro giocatore dice no Cavalla 4 è una mossa che non va bene non la faccio e perde questa partita banalmente perché si fa sottomettere sul lato di Re quindi no c'è tanto merito qua vedo che hanno finito ma forse oggi anche si va a Casinario decente questa diciamo l'avevamo commentata con Lorenzo ma cioè sto finalino qua no c'è un po' di più peil nero doppiato insomma però non passi quindi sono stati fermi qui non c'è modo di passare sono stati fermi già l'aveva commentata Lorenzo e questa diciamo è meno chiara fatta vabbè qua è diventata chiarissima aspetta era meno chiara qui sì qui era poco facciamo delle idee a5 b6 no e non vabbè adesso è patta facile no dopo tra b6 il fiere qui ok vabbè questo è patta facile si si mangerà questo e poi si mangerà questi sì sì sono troppo deboli i pedoni del nero quindi patta subito ma sì il tempo ce l'hanno quindi sì perché dopo Re per d3 in realtà perché tocca al bianco toccasse il nero riuscirebbe magari a giocare al fiere per h3 poi magari f3 al fiere g2 ma dopo Re per d3 al fiere per h3 Re 4 Re 4 ti mangio il pedone andrò qui andrò qui e farei questa vabbè cavallo vabbè in d5 un po' strano vabbè ma in d4 sembrava più normale arrivo prima dici vabbè cavallo sì cavallo f6 cavallo g8 inizio a attaccare i pedoni Re ma è in re troppo fuori cavallo g8 h5 cavallo f6 h4 e g5 fin mangio il pedone e poi vabbè il cavallo sì sì no c'è poco da commentare quindi direi che vediamo 4 commenti e poi stacchiamo pure la live tanto questa è la partita che rimane sono distrutto io sì sì ma io come ho detto praticamente sto facendo il pomeriggio e la sera lavoro e la mattina invece studio scacchi sto impazzendo c'è h24 mi sto fermando ok qua ci richiediamo una classifica quindi diciamo luca è bello spedito è calma solido oggettivo sicuramente una buona prima parte di torneo diciamo non ti puoi lamentare maronna santa se finisco male mi paghi tutto il bar che ho sulla camera e fidati che ha coca cola caffè birre che ti chiedono se stai guadagnando punti feed sì 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 un k tipo un po' di più sicuro sì un po' di più questa è una domanda che anche anche facevamo un'altra volta cioè secondo te cosa perché tu ormai sei da sono salvo trizio ma a metà a metà campionato sono come il napoli salvo matematico non per gufare al napoli ovviamente non sia mai però primo obiettivo stagionale il napoli preso salvezza 41 diciamo tu sei da molti anni ormai che cioè sei fra i più forti qui in italia i 2-5 2-5-50 e passa cioè secondo te no perché la finisci o no no sto parlando di una cosa seria cioè io ti conosco cioè tu continui a investire tantissimo nella tua formazione anche secondo te in cosa cosa serve per andare oltre no 2-6-50 2-7 perché non si può dire che ti manchi l'impegno perché no vabbè posso assicurarti che l'impegno mi è mancato rispetto agli altri no vabbè gli altri quelli over 2-6-50 lavoravano molto più di me adesso sto lavorando un sacco durante anche durante il torneo ok non solo prima quindi vabbè ho avuto un periodo in cui non ho fatto scacchi ma vabbè adesso ho ripreso infatti ho pagato un po' ultimamente mesi in cui ero ero out ma ma adesso mi sto impegnando un sacco cioè c'è il Mogra che è un angelo che mi sta dando una mano importantissima quindi bisogna non so per arrivare a 2-6-50 secondo me bisogna uno avere un repertorio devastante quando giochi quando giochi con uno tipo sarin tu sai che non ti smontano esatto un repertorio da pierre sicuramente e vabbè bisogna essere sempre concentrati bisogna avere una routine importante per esempio già un po' di tempo fa mi svegliavo tardissimo la mattina ok qui invece non mi sveglio dopo le 10 perché comunque ah ok vabbè io stavo dicendo da domani metto la sveglia alle 7 anche io però dopo le 10 allora va bene anche la mia alle 9 dai sì mi sveglio 9 9 e mezza perché vabbè fino a un po' di tempo fa studiavo un sacco la sera perché non mi riuscivo a addormentare senza essere preparato ok se ne avrei pensato alla partita alle aperture e tutto adesso sto avendo una routine molto più sana diciamo quindi quindi direi che ci sono tanti fattori che non dipendono solo da dalla dalla forza scacchistica per esempio Daniele Vocaturo la forza scacchistica ce l'ha da da 2.650 lo dimostra sempre però vabbè ha dei problemi ehm extra scacchistici quindi gli manca un po' di routine queste cose qua e quindi non riesce a a sfondare quella soglia anche se la forza c'è no è chiaro poi non è non è facile quindi questo non lo sapevo c'è stato un periodo in cui un po' ti sei fermato però sai magari sono quei periodi dove un po' uno fa una pausa rivede due tre cose della propria vita e poi io l'ho fatto durante la pandemia ho fatto un anno così totale mi sono riscritto all'università in quell'anno penso quindi cambiamento radicale quindi ci sta quindi l'ambizione comunque è fra i tuoi obiettivi quello di andare oltre una certa soglia sì sì top 100 mondiale ok quindi la domanda che stavo per fare è perché alle volte no ormai con questi ragazzi indiani che ci sono uno dice se non arrivo a 2,7 entro x non ci arriverò mai per me è una cavolata tant'è che ancora a 29 anni continuo a studiare dice non senti di avere un limite nel dire ok non ci arriverò più perché hai fatto tu hai 22 anni quindi non è che sei così tanto vecchio però giustamente abbiamo questa concorrenza di ragazzini che hanno 15 anni hanno 2,6,50 che fa un po' impressione questo sicuro ah ma infatti non voglio vivere di sogni cioè non è che dico adesso mi impegno diventerò campione del mondo no lo so benissimo però il margine il margine c'è abbastanza cioè almeno 2,6,50 realistici 2,7 magari serve anche magari un po' di fortuna a seconda delle diciamo quando arrivi lì poi devi anche reggere con di testa routine in realtà 2,7 dipende perché se li tocchi cioè toccarli sarebbe bello una volta nella vita ma alla fine basta avere una forza di gioco da 2,6,50 fare 6 mesi dove sei molto in forma e a 2,7 ci arrivi fai 5 tornei in cui performi bene e prendi 10 punti a torneo sì no chiaro ok vediamo qui cosa ci chiedono poi bisogna diventare 2,6,50 ma non troppo veloce se no fai la fine di niemand poverino beh se vince la causa mica poverino quindi in caso in cui vinca la causa poverino è un cavolo qua dicono che assomigli tantissimo a Fischer strano come gioco immagino spero perché esteticamente non penso cioè proprio no ragazzi che Fischer avete visto quanto spendi in estate è un'altra domanda importante dipende dipende dal Mogra perché adesso quando ero a casa del Mogra ho fatto provare a baby Mogra l'estate a cui ovviamente è piaciuto l'estate al limone ah qua c'è un team pesca da questo lato infatti limone ti sei mai chiesto perché non sei mai arrivato a grande maestro devo provare il limone se Mogra mi mette in conto adesso gli estate del figlio perché me l'ha già detto potrei spendere un sacco adesso quella è la la cosa la cosa grave il rischio qua hanno messo delle somianze con Zanetti anche qui mi sembra un po magari Zanetti sei juventino però quindi magari avrei il conto di Zanetti io preferirei avere la gamba di Zanetti il fiato di correre io prendo la distanza il conto distanza la gamba no la gamba calcistica cosa hai capito scusa nel dubbio nel dubbio invece chiedono se dopo la carriera di giocatore o anche parallelamente pensi di fare quella da allenatore maronna santa 22 anni non lo so non so neanche se farò lo scacchista io inizio da 18 forse ho sbagliato perché ti toglie tanto tempo ovviamente poi arrivano anche soddisfazioni non lo so non ci sto pensando al futuro ovviamente bravo bravo saggio perché è già difficile fare scacchi iniziare a buttarsi pensieri io conosco altri ragazzi che diciamo sono pieni di dubbia cosa faccio faccio questo faccio quest'altro faccio quest'altro faccio quest'altro e fanno 20.000 cose uno di questi faceva anche streaming su twitch ho detto senti ma stai facendo 850 cose dedicati su una e cerca di farla bene se ne fai 850 non ti può riuscire ovviamente da ex streamer giustamente ti dissoci a me streamer anche per questo sto sto spingendo un sacco sugli scacchi chiaramente lascia lo streamer a noi poveracci tornerò ovviamente mi ha sempre fatto piacere mi divertivo al di là di tutto ma chiaramente e niente rispondiamo all'ultima sui tuoi prossimi tornei e poi salutiamo tutti tanto qui stiamo vedendo la partita di Alberto vi dico già che infatti non c'è niente da aggiungere giocherò il campionato europeo rapido e blitz col mogra verrà anche lui a giocare fantastico dov'è dov'è questo è in polonia ah ok a katowice e poi il mondiale rapido e blitz mentre non lo so tempo lungo ancora non hai no non lo so dipende molto da come va questo torneo da un sacco di fattori quindi vabbè prima finisco questo torneo chiudo questa parentesi poi penso cosa giocare sicuro il mondiale rapido e blitz l'europeo rapido e blitz ok che poi questi livelli comunque giocare un torneo non è come per noi che ce li scegliamo dal calendario giustamente tu hai inviti da parte dell'organizzazione immagino in tanti di questi anche ingaggio quindi comunque dipende anche dalle possibilità che ti offrono perché è corretto che oltre un certo livello non è che vai paghi l'iscrizione all'albergo di solito di solito di solito quelli forti dice c'è un motivo se poi sono diventati forti se vuoi che giocano il torneo diciamo devi offrire anche determinate condizioni questo lo diciamo per tutti gli organizzatori perché se ci sono degli organizzatori in Italia che magari alzano il telefono ah Luca perché non viene a giocare il mio torneo ok no no ma spese tue cioè si vabbè no ci sono non succede mai non è mai successo però vabbè dipende anche da c'è chi te lo chiede anche come favore quindi vabbè ma alla fine a chiedere è lecito poi è chiaro che normal cioè domani faccio un torneo in Sicilia scapoli ammogliati e dico Luca ma perché non vieni a giocare con il mio torneo in Sicilia cioè ci portiamo anche il mogra lo facciamo riprendere a giocare bravo così una settimana di vacanze al sud beh e la buttiamo a tarallucci e vino Luca al torneo della parrocchia giustamente infatti era simile al torneo che che stavo descrivendo io ragazzi allora che dire anche oggi abbiamo superato le 5 ore 14 clip ho seria paura di vedere cosa sia stato clippato perché a un certo punto c'era di tutto è successo di tutto col bet con Orfini è successo di tutto e quindi niente gufati a parte il torneo sta andando bene però Luca è primo assoluto è lunghissimo il torneo la salvezza è stata raggiunta vabbè siamo al giro di no quindi ho fatto 4 vittorie una patta tosto che cavolo cioè me coglioni no perché di solito si ragiona solo quando sei più 4 cioè si ragiona solo un bilancio vittorie sconfitte però ne ho fatta solo 1 pensavo 4 vittorie tipo 2 invece no 4-1 quasi stanno scaterando sui tornei a cui invitarti c'è il torneo del condominio se giochi per la scala o scala B ma poi c'è il master ovviamente però il master è al prime ma giocherai qualcos'altro da fermare vabbè vado in India a giocare un torneo nuovateli dici ma i punti che prendi qui li vuoi lasciare nuovateli no no sono devastante devastante ragazzi grazie ringraziamo Luca per essere stato qui con noi per oggi noi abbiamo terminato quindi ci rivediamo domani perché voi avete il giorno di pausa ma invece l'under20 e il femminile cominciano quindi domani siccome voi non avete niente da fare io vi prenderò e vi porterò comunque a commentare ai ragazzi hai visto sì ma c'è una piccola differenza vuoi l'ingaggio chiedo alla FSI gli dico dobbiamo darmi l'ingaggio a Moroni non fai il commento appena ho fatto tutto il discorso nel torneo all'organizzatore che ti chiama e poi mi dice no no domani vieni a commentare ma pensa a te ti do una parte del mio ingaggio dividiamo oppure ti lascio direttamente alla stanza io me ne vado me ne vado in chill domani e lavori tu e prendi il mio ingaggio no prendo il tuo computer poi a fine torneo no quello magari potrebbe non convenire ecco effettivamente ragazzi comunque no scherzi a parte magari ovviamente non per tutte le 5 ore però più o meno quando li troverò qua non fare niente li porterò così 10 minuti a cazzeggiare un pochettino magari quelli che sono venuti di meno ecco questo sicuramente e niente quindi appuntamento a domani domani ci divertiamo perché non sono più le partite queste che fate voi serie ci annoiamo domani ci sono partite con pezzi in pre no scherzo sono forti anche nelle altre categorie però è domani so solo che andrò a un sushino a pranzo c'è il sushi qua dimmi dove ah è qua è qua si si scende domani risolviamo a posto a posto ragazzi e niente ragazzi appuntamento a domani domani vediamo i pezzi volare sì domani vediamo i pezzi volare soprattutto quelli di orfini speriamo la direzione giusta e niente buona serata a tutti appuntamento a domani ciao ciao ciao